Buona giornata amici di Fano TV, oggi è giovedì 3 novembre 2022 e bentrovati alla rassegna stampa. Iniziamo insieme la giornata dando un'occhiata ai giornali, come sempre, il resto del Carlino e il Corriere Adriatico per quanto riguarda la cronaca locale. Iniziamo però con l'almanacco e vediamo che oggi si festeggia una santa che è madre di santo, ovvero Santa Silvia. Era la madre di San Gregorio Magno, papa del VI secolo, uno dei papi principali che hanno dato una svolta al governo della Chiesa. Rimasta vedova del senatore Gordiano, si ritirò in una casa sull'Aventino chiamata Cella Nova, seguendo le regole benedettine, dedicando poi il resto della sua vita alla preghiera e all'aiuto dei più bisognosi, tanto che è stato papa Giovanni XXIII a rilevare la santità di Santa Silvia, madre appunto di papa Gregorio Magno. Ed ora diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo. Guardando quello che dicono i giornali questa mattina, vediamo sul Corriere Adriatico la mappa della nostra regione, dove però splende il sole, nonostante che qualche cenno di cambiamento del tempo si cominci già a avvertire, tanto che oggi il cielo è coperto. Tempo ancora stabile con nuvolosità irregolare sulle marche, temperature in lieve calo, massime entro i 22-23 cali, le minime 13 gradi. I venti spireranno con direzione debole sulle coste da sud e sud-est, mentre all'interno da nord-est il mare è poco mosso. A questo punto possiamo subito sfogliare i giornali, a partire dalla prima pagina che dedica a Sufano il Corriere Adriatico. Ieri era la commemorazione dei difunti, il 2 novembre, e come in tutti i cimiteri, anche a Fano si è svolta una celebrazione particolare, molto sentita, molto seguita, con la partecipazione del vescovo Armando Trasarti e anche delle autorità cittadine, sindaco Massimo Seri in testa. La morte è nulla, difficile è vivere, ha detto il vescovo, dimenticati però nella sua omelia, ha detto, i sacrifici per il Covid. Nell'ommeria è il rimprovero del vescovo, nessun operatore socio-sanitario è diventato cavaliere del lavoro. E proprio il 4 novembre prossimo in Prefettura ci saranno nuove onoreficenze. Sono sempre sferzanti le parole del vescovo Armando Trasarti, che specie in occasione di cerimonie pubbliche, quando ha di fronte a sé una platea di cittadini e di autorità, non manca di affrontare in termini critici argomenti di stretta attualità. Lo ha fatto anche ieri, nel corso della omelia della messa celebrata nel cimitero a Fano, in Via della Giustizia. A quel punto il rito veniva celebrato nel Sacrario dei caduti in guerra, nella guerra precedente. Ebbene però lui, il sindaco, il vescovo, ha detto che oltre ai nomi dei caduti in guerra, ci avrebbero dovuto essere anche i nomi di coloro che sono caduti nella guerra contro la pandemia, contro il Covid. E purtroppo, insomma, questi nomi ormai ancora non ci sono. E ha appunto così segnalato come nessuno degli OSS, ovvero sono gli operatori e i sociosanitari, insomma, hanno ricevuto le benemerenze che avrebbero meritato. Poi ci sono altre considerazioni in questo articolo che rileva quello che ha detto il vescovo. Considerazioni interessanti nella sua omelia che ha rilevato come la morte sia una cosa che fa paura, è vero, fa paura a tutti, ma è la vita che deve essere vissuta in maniera forte, in maniera vivace. Arapinò il parroco della cattedrale e è andato a processo. E' comparso davanti al giudice di Pesaro un 47enne che con violenza avrebbe preso 50 euro all'ex parroco del Duomo, Don Luciano Torcellini. Era uno che faceva questi furti abbastanza spesso. Era di Caserta, era stato già condannato lo scorso giugno per un fatto molto simile. E ora deve difendersi da un'accusa di rapina ai danni del parroco. Un'accusa resa ancora più grave dall'età della sua vittima che ha superato appunto i 60 anni. Ebbene, questo uomo aveva chiesto dei soldi a Don Luciano, Don Luciano ha detto che non ne aveva e lui lo avrebbe preso per un braccio spinto nella sagrestia e gli avrebbe preso 50 euro per poi scappare. Individuato e rintracciato dalle forze dell'ordine è stato denunciato per rapina aggravata, appunto per il fatto di averla compiuta nei confronti di una persona oltre 65enne. E a questo punto ora deve rispondere di fronte al giudice. Insomma, ci sono diverse accuse gravi nei suoi confronti. E vediamo anche un intervento di un urbanista e di un architetto molto noto in città a Fano. E l'architetto Gianni Lamedica, autore insieme ad altri due progettisti come Ceglio Francioni e Mariano Cantarini del cimitero dell'Olivo. Io dico che è uno dei cimiteri più belli delle Marche. E' stato realizzato nella collina di Palombara. Se uno lo guarda dalle colline di fronte non si accogge nemmeno che è un cimitero, perché le tombe sono così occultate da delle collinette che dalla parte opposta danno l'impressione di una collina che non è stata affatto minimamente intaccata. Ebbene, ha detto Gianni Lamedica, quel progetto però non è compiuto. È stato realizzato soltanto in parte. Mancano diverse altre strutture, come soprattutto la casa dell'accoglienza. La casa dell'accoglienza che avrebbe dovuto così costituire l'entrata al cimitero, un luogo di sosta, un luogo di compianto, un luogo di socializzazione, dove avrebbero dovuto e potuto svolgersi anche iniziative di carattere sociale, come concerti, come incontri, come corsi di storia, di archeologia, perché il cimitero è il luogo della memoria, è il luogo del radicamento delle tradizioni di una comunità in un territorio. A parte il fatto che il luogo è bellissimo, il panorama è altamente suggestivo. Ebbene, al cimitero dell'Olivo avrebbe dovuto esserci anche una tomba ficena, sì, per ricordare come il culto dei morti risale a lunghissima data. E quindi tutto poi quello che è avvenuto dalla preistoria al giorno d'oggi fa parte della nostra cultura, delle nostre tradizioni. Cosa dire poi dei laghetti, dei chioschi che non sono stati realizzati? Ed è la simbologia dell'acqua e del fuoco, che dopo i primi accenni è stata subito dimenticata. Un fuoco avrebbe dovuto accendersi all'apice della collinetta all'interno della fontana, da cui sgorga l'acqua che avrebbe dovuto così scorrere in dei ruscelletti attorno alla collina. Simbologie importanti, perché acqua e fuoco sono simboli di vita. Ebbene, anche questi purtroppo sono stati dimenticati. Un vero e proprio peccato. Una bella idea dei progettisti che avrebbe dovuto rendere un cimitero non solo come luogo di sepoltura, ma un luogo veramente aperto alla comunità, alla vita soprattutto. Insulti razzisti individuato il papà. Un episodio inqualificabile è stato compiuto durante una partita di calcio. La Under 17 femminile ha i danni di una ragazzina a 15 anni di Ancona, che era ospite del Fano Calcio. Il Fano Calcio ora avvia un'indagine. È stato individuato l'uomo che avrebbe rivolto insulti di stampo razzista alla giovane calciatrice dell'Ancona Respect. Si tratterebbe del papà di una giocatrice dell'Alma Juventus Fano, purtroppo, dobbiamo dire. La dirigenza Granata non intende procedere con giudizi sommari, fa bene a farlo, e tantomeno esporre la persona ritenuta responsabile a un'agonia mediatica, però allo stesso tempo ritiene che il colpevole debba essere sottoposto ai provvedimenti del caso. Quindi non montare nessuna canea nei confronti di questa persona, però essa deve essere ben giudicata per quello che ha fatto, e veramente ha fatto una cosa inqualificabile. Anche la Lega Prof condanna l'episodio, pronti a premiare la ragazzina di coloro che è stata appunto così insultata. Ed ora passiamo ad un'altra notizia bella per quanto riguarda gli operatori fanesi. entrano in Bib Curmand il Ciles e l'Osteria Zanghetti, sia Fano che Fossombrone. Sono due ristoranti che entrano, sono segnalati dalla guida Michelin, un mezzo di promozione della enogastronomia di qualità nel mondo, e quindi il fatto che ci siano due ristoranti del nostro territorio, qualifica il territorio stesso. Si tratta di due operatori, e vediamo qui le loro fotografie, vediamo Ciles Ricci, che è proprietario appunto del Ciles, e Luca Zanghetti. Per quanto riguarda la struttura di Fossombrone, sono comunque cauti i titolari, in attesa della conferma ufficiale. Comunque le notizie ufficiose ormai sono già state rese note, e quindi c'è una certa soddisfazione, una certa allegria in questi due ristoranti, premio del lavoro di questi due operatori. Prova generale del Museo Cielo Aperto a Pianello, un happening con 40 artisti e opere estemporanee. Il Museo Cielo Aperto ha gettato le basi a Pianello di Cagli, e merita una visita a questa piccola località del nostro entroterra, perché oltre al paesaggio, oltre a tutte le offerte che può offrire una piccola frazione a ridosso appunto degli appennini, ci sono queste iniziative artistiche che danno sapore alla offerta turistica. A Marotta ci sono delle proteste di un condominio che ha subito un po' le intemperanze di Halloween. Ragazzini scatenati per Halloween, siamo terrorizzati da una banda, un residente di Via Svevo, segnala le brevate di alcuni minori, hanno esploso raudi nel giardino dell'abitazione, vabbè, quello un po' lo fanno dappertutto, ma hanno gettato uova contro il palazzo e le uova hanno sporcato i terrazzi di questo condominio, e la cosa un pochino è stata diversa, insomma ha acceduto rispetto a quello che fanno i ragazzini in questa occasione. Abbiamo installato delle telecamere, dice Riccardo Bozzi, avvisato alle autorità, ma la situazione non solo non sembra migliorare, addirittura peggiora. Sembra che questa banda di ragazzini non solo così esprima la sua vivacità in occasione di Halloween, ma lo ha fatto anche precedentemente, così in maniera molto molto vivace, insomma, eversiva, ecco, è un termine un po' esagerato. Poi voglio segnalarvi quello che accade a San Costanzo in merito a un evento culturale. L'assedio di Mondolfo, 500 anni fa, è il tema di un incontro, di un incontro con una proiezione cinematografica. Ebbene, rivivere un momento così topico della storia di Mondolfo e di San Costanzo è veramente interessante. È un evento avvenuto nel 1508 e fu uno degli episodi salienti della guerra di Urbino nel 1517, ossia durante il conflitto che oppose Francesco Maria I della Rovere, Duca deposto da Papa Leone Decibo, che era un Papa dei Medici, a Lorenzo dei Medici, nipote del Papa e quindi nuovo Duca. Insomma, anche piccole frazioni, piccoli paesi come appunto Mondolfo e San Costanzo rientrano in questa gestione generale del territorio del centro Italia e la lotta appunto tra le grandi famiglie della Rovere e Medici. Giriamo ancora la pagina e vediamo se abbiamo qualche notizia da Senigallia. Eccola in questa versione. Abbiamo una stagione ancora bella, l'autunno ancora molto mite, un novembre da record. Lo si spera, perché ancora novembre è appena iniziato. Comunque si pranza in spiaggia. Recuperato il periodo no dell'alluvione, quindi anche Senigallia torna a rivivere, tutto pieno a ieri tra i commensali. C'era anche Checco Zalone, che ha frequentato una delle strutture, si tratta del People Bar e Restaurante di fianco alla Rotonda. Checco Zalone con il suo staff, che fa parte del suo spettacolo, è stata una presenza significante per quanto riguarda appunto l'attrazione di Senigallia. Finché c'è il sole, restiamo aperti, hanno detto le strutture che sono prossime alla spiaggia di Velluto di Senigallia. E poi così rinasce Villa Fausta, una cooperativa per il recupero. Lo storico edificio ha ospitato il ristorante Paradiso Inferno. è un edificio, una struttura, che risale alla fine dell'Ottocento. Si trova in via Cellini, allo svincolo di via Berardinelli, nel complanare. Villa Fausta è presente nel Prime Carte, già nel 1896, dove compare un edificio simile in forma anche all'attuale. Poi ci sono state diverse ristrutturazioni ed ora viene il recupero. Diamo un'occhiata anche alla pagina pesarese del Corriere Adriatico. Vediamo come si parla anche qui del cimitero, del cimitero centrale di Pesaro, dove c'è un problema che risale da diversi anni. E' quello costituito dalla realizzazione del Padiglione dei Fiori, un grande padiglione posto nella parte retrostante del cimitero. 16 anni dopo l'appalto, un'odissea legale infinita. Si tratta di ripercorrere l'annosa vicenda del cimitero centrale, che non è stata l'unica grana per il Comune. La realizzazione del nuovo padiglione al cimitero centrale San Decenzio, a 16 anni dall'appalto, il Comune si costituisce addirittura in giudizio. Ma in attesa c'è la formalizzazione di un accordo che potrebbe sanare la situazione, un accordo stretto con la ditta esecutrice per arrivare ad una transazione, un'odissea o comunque senza fine, tenuto conto che nel frattempo i lavori sono stati conclusi. Questo è il padiglione conteso, il padiglione cosiddetto dei fiori. Ristrutturazione infinita, sospesi i bollettini meteo, l'osservatorio Valerio fermo per lavori, staccata la spine ai macchinari. Una pausa per quanto riguarda questa struttura di carattere scientifico che ci permette di fare previsioni per quanto riguarda le perturbazioni meteorologiche che si sommano nel nostro territorio. E poi non possiamo non parlare della situazione sanitaria della nostra provincia. Sappiamo come il governo Meloni ha superato la questione dei Novax e qui vediamo quello che si sta facendo nell'azienda Marche Nord. Medici Novax è già vinto un ricorso, l'ordine non teme le nuove cause. È il presidente Battestini che interviene, il presidente dell'ordine dei medici, che attende le disposizioni per il reintegro degli iscritti sospesi. Sono 24 negli ultimi mesi. Comunque tutti sanno come ormai è stato decretato il fine dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario. L'ordine dei medici pesarese attende dunque le direttive per riammettere i sospesi. E le direttive che ancora non sono state comunicate né dall'Azur regionale, né appunto dalla sanità regionale, né dal governo. E poi abbiamo anche qui le comunicazioni e le esternazioni di coloro che sono stati appunto penalizzati. Ci sentiamo sentiti traditi, le testimonianze dei sanitari da riammettere la partita dei risalcimenti, anche perché insomma hanno subito un danno economico. E poi il giornale ci informa di un lutto, morto piccoli, il diavolo dell'inferno, era uno dei sostenitori più accaniti, più vivaci, più determinati della VL, un grande appassionato di basket, che era il nostro primo tifoso, hanno detto i dirigenti della squadra pesarese. Nell'ottobre del 2021 era stato colpito da un ictus, aveva 59 anni, la notizia della sua morte è stata data dal figlio, che ha ringraziato tutti per il sostegno che è stato dato sia a lui, a Piccoli, che alla famiglia. Marco Piccoli, deceduto a 59 anni. E poi una notizia di cronaca che riguarda una denuncia, una denuncia per stalking. Se non esci con me, spacco tutto, avrebbe detto un fidanzato, se così si può definire, alla sua ragazza. Lui ha 21 anni e di origine siciliane. Una vita impossibile, ormai si era determinata, tra i due, tra controlli, foto, minacce con il tagliarino addirittura, un 21enne finisce davanti al giudice. È stato accusato di stalking, per cui è indagato. Il giovane è accusato di atti persecutori nei confronti di una ragazzina con cui aveva avuto una relazione nel 2020. Secondo l'accusa, e poi la querela presentata dalla giovane, lui avrebbe avuto attacchi di gelosia, che poi erano degenerati, convinto che lei lo tradisse. Non sono insulti, ma anche minacce, appunto anche con l'uso del taglierino, e quindi deve rispondere di fronte al giudice. E poi vediamo che la polizia ha ritrovato molte, molte biciclette rubate in un capannone in via Toscana a Pesaro. ci sono decine e decine di biciclette che aspettano di tornare ai loro proprietari. Sono almeno 60, sono tante, quindi è stato veramente un racket quelle che le ha raggranellate per la città e poi depositate in questo stabile. Ebbene, si tratta ora di restituire queste biciclette legittimi proprietari. Intanto, il proprietario del capannone è stato denunciato per ricettazione. Le biciclette non saranno restituite solo con una denuncia, anzi, saranno restituite solo con una denuncia di furto che sia stata presentata prima del 20 maggio, in modo da non far sì che qualcuno furbo si approprii di una bicicletta che non è la sua. Comunque, chi ha subito un danno può questa volta recuperarlo grazie alle forze dell'Ordine. E passiamo ad Urbino. Urbino invasa di nuovo dai giovani una bella cosa che evidenzia il sindaco Maurizio Gambini che saluta la nuova stagione e difende le scelte del Rettore durante la pandemia. L'Ateneo riprende con tutta la sua capacità di coinvolgimento dei giovani sia a livello culturale che a livello sociale. Passiamo ora al resto del Calino per quanto riguarda la pagina di Fano e vediamo che il giornale riprende la notizia che è stata data ieri della costituzione di un parco eolico molto grande a largo di Fano. Parco eolico a largo della costa già chiesta la connessione a Terna. la società che intende realizzare questa mega opera non perde tempo si tratta della società Agnes di cui amministratore delegato è Alberto Bernabini che Alberto Bernabini questa è la sua immagine che rilascia anche una intervista al giornale di Bologna ebbene l'intenzione è quella di non perdere tempo e nonostante che ancora il progetto sia un progetto di massima sia molto vago occorrono poi tante autorizzazioni da riprendere intanto si chiede l'autorizzazione a Terna per la connessione dell'energia elettrica prodotta dal parco eolico nella rete nazionale e quindi questo dimostra le intenzioni serie che avrebbe questa ditta e poi c'è un altro impianto che potrebbe nascere nel nostro territorio se tratta del rigassificatore e in arrivo l'assessore Aguzzi che è l'assessore all'ambiente ha detto lo temo a largo di Fano potrebbe anche essere impiantato il rigassificatore un impianto per riportare il gas liquefatto allo stato originario gasoso sappiamo che il gas non può essere trasportato via mare per sulle navi allo stato gasoso deve essere prima messo in stato liquido e poi una volta giunto a destinazione riproposto in forma gasosa ebbene Stefano Aguzzi dice in regione al momento non è stata presentata nessuna richiesta però stiamo cercando di fare le verifiche a livello ministeriale è probabile che questo impianto venga così immesso insomma in questo caso siamo in emergenza e certe remore di carattere ambientale sembra che vengano dimenticate anche il resto del Carlino parla di quello fatto inqualificabile che è accaduto al campo sportivo insulti razzisti ad atleta in campo oppure la Lega Prof non si placano le reazioni dopo le offese verso una calciatrice quindicenne di colore la Presidente di Ancona respect episodi simili già avvenuto in passato a Fano e sembra che questa cosa sia recidiva disabilità ora scoppia la guerra delle associazioni dopo lo sfratto tra virgolette perché poi ci è dato un'altra sede all'associazione che ha sede in via Froncini insurgono le altre associazioni perché dicono tu almeno hai una sede noi non abbiamo nemmeno quella cosa dovremmo dire e insomma c'è un un batti e ribatti tra le associazioni che hanno lo stesso scopo quello di aiutare le persone più deboli quelle più fragili i disabili concentrare l'attenzione su un solo progetto per fini politici è imbarazzante viene appunto definito l'affondo abbiamo ancora poco tempo ma voglio segnalarvi questo articolo che riguarda Colli al Metauro ambulanza a Calcinelli 40.000 euro di rosso purtroppo piange il bilancio sono le cifre messe sul tavolo dalla Croce Europa che ha in appalto il servizio dell'Asur c'è la volontà comune di trovare una soluzione nell'incontro con i vertici dell'area vasta 1 è emerso anche il nodo del reperimento del personale un servizio essenziale questo quello della Croce Rossa per quanto riguarda quello delle ambulanze per quanto riguarda l'entroterra però insomma questo ha i suoi problemi a Fraterosa invece nasce un nuovo nido con il PNRR ospiterà 16 bambini e l'edificio sorgerà a Torre San Marco accanto alla scuola dell'infanzia a Metodo Montessori ebbè concludiamo con questa bella notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 come sempre per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 il TG di Fano TV occhio alla notizia condotto da Simona Zonghetti e questo è per il momento è tutto buona giornata a risentirci a